Allora, abbiamo un tubo e un coniglietto di colore grigio, meravigliose, guarda, copriamo il coniglietto con il tubo, lo porto via la schiena così e magicamente basta fare questo gesto e il coniglietto di colore grigio, questo è magia, guarda, è stato riuscito, guarda, lo rifacciamo, lo rifacciamo perché ho convinto poco secondo me, lo prendo e lo ripeto qua via la schiena, guarda, così, 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 basta un gesto magico in questa maniera e il coniglietto di colore grigio, che meraviglia, che meraviglia, mi chiedeva bene? Sì, va bene, sta dietro secondo me, dietro? dietro non c'è niente, guarda! Chiè dietro? Friedro, dietro, non c'è niente! Chiè dietro? Chiè dietro? Si Anna va a girare stupendo! Nooo! E si invece... tatico saga il кан 09 Grazie a tutti.